Inter-Monza termina 0 a 1 questa partita di oggi, 15 aprile 2023, di Serie A. L'Inter non riesce a sfondare e a ottenere la vittoria contro il Monza, che in modo tenace riesce a raggiungere la vittoria, seppure dal punto di vista statistico l'Inter prima e come. Andiamo infatti a vedere un attimo in maniera assolutiva i punti o meglio le statistiche di questa partita per poi passare a tracciare un bilancio sintetico ma efficace attraverso il ripiuto del gol che c'è stato. Innanzitutto abbiamo un possesso di palla maggiore, sì dell'Inter rispetto al Monza, ma abbiamo molti più passaggi dell'Inter rispetto del Sate al Monza. e per quanto riguarda la precisione dei passaggi è di la vittoria superiore a quella dell'Inter rispetto al Monza. Conseguentemente ne viene fuori che sulla carta, almeno sulla carta, le statistiche parlano piena. Lo stile di gioco è stato il migliore, quello dell'Inter rispetto al Monza. Il gol del Monza è stato realizzato da parte di Luca Caldirona, Caldirona, pensate nel secondo tempo, tanto che sicuramente non è un gol che passa inosservato. È un gol pieno, un gol totale, un gol che piace, che sposa in pieno quella che è l'aspettativa che il Monza ha riservata in se stessa. E quindi la vittoria giunge a compilere. Complimenti dunque al Monza, il video termina qua, iscrivetevi, commentatevi, ciao da Arburi, vi beviamo.